Oddio, oddio, oddio! Dille di rifiutare perché la vostra vita è tutta qui. Devo supportarla e lasciare che decida da sola. Beh, lei non è il sole, sei tu il sole. Cosa? Ok, è piuttosto solare, non importa. Ehi! Dove sono tutti? Siamo in anticipo. Stanno arrivando, c'è stato un piccolo problema con il link per il GPS sul sito del matrimonio, ma arrivano. Oh, oh! Ehi, 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 ehi! Non sono per te, sono per gli ospiti. Ospiti? Non c'è nessuno qui. Stanno arrivando! Che facciamo? Ecco, andiamo via uno alla volta, ok? Niente movimenti bruschi. Discretamente, car. Signore, mi scusi. Mi scusi, mi scusi. Mi scusi. Scusate, infelazione. No, 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 andiamo. Scusate, scusate. Scusi. Sei il peggior accompagnatore del mondo. Dobbiamo dare inizio alle danze o dovremmo rinunciare del tutto al taglio della torta? Oh, eccole! Sì, ciao! Oh, mio Dio! Oh, siete felissimi! Oh, mio Dio, Ebril! È splendido tesoro! Siamo tutti amici, non c'è il lato dello sposo o della sposa, sedetevi dove volete, ok? Dove ti siedi se sei rinnamorato della sposa e lo sposo ti ha picchiato e spedito in ospedale? Ok. Ecco. Buona questa. Ciao. Ci manchi in ospedale. Anche voi, ma le comunità di senza tetto sono enormi e quasi non hanno accesso alle cure mediche e hanno bisogno di me. Mi fa stare bene. Sono felice che tu stia bene. Vieni da noi, domenica, e mi porti la mia nipotina? Oh, sì, mi fa piacere, certo. Ok, d'accordo. Ok. Ehi! Ehi, sono qui. Come sta? La nostra sposa è pronta alla cerimonia più veloce del mondo. Vado a controllare! Ok, va bene. Scusa il ritardo. Tranquilla. Io a dire il vero... Ah, ehi! Ciao. Jackson. Io vado... Certo. A bere. Io...